Tra uno sbuffo di polvere e l'altro, ma domenica potrebbe cadere anche la pioggia, il CIR 2016 si sposta nell'entroterra marchigiano per la ventitresima edizione del rally dell'Adriatico, prima prova stagionale su fondo sterrato. La corsa al titolo tricolore ha detto che finora non c'è trippa per gatti, inteso che Paolo Andreucci e Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 stanno facendo ancora una volta la parte del Leone. I successi al ciocco, seguiti da quelli del Sanremo e della Targa Florio, hanno permesso al nove volte campione italiano di scavare un solco già interessante rispetto a basso e scandola che rimangono gli interlocutori più validi. Chiamasi anche avversari, piuttosto insidiosi nonostante i 15 punti di ritardo. Adriatico peraltro non sempre foriero di soddisfazioni per Ucce e Ussi, che da queste parti hanno vinto solo due volte nel 2009 e nel 2012, poca roba per quei due lì. Tra l'altro Andreucci ha sottolineato lo svantaggio di dover partire sempre per primo, sia in gara 1 che in gara 2. Cercherà di approfittarne basso sulla Ford Fiesta, che correrà con la vettura a benzina, mentre quella a gas sarà affidata dalla BRC a Simone Campedelli, schierato a sorpresa. Ma chi davvero punterà ad un rilancio pesante è Umberto Scandola. Il forte pilota veronese cercherà di portare la sua scoda Fabia R5 alla quarta vittoria consecutiva sulla terra dell'Adriatico. Ergo Scandola per il poker e per accorciare sul leader Andreucci. Sul fronte lucchese saranno al via quei loro rispettivi obiettivi Luca Panzani, Gianandrea Pisani e Stefano Martinelli. 12 le prove speciali complessivamente in programma, 6 sabato ed altrettante domenica per due classifiche distinte relativi punteggi. Un regolamento che per ora non ha mutato le carte in tavola, confermando Ucci in discusso numero 1 del realismo italiano.